Grazie signor Presidente e signora Commissaria. L'invasione russa in Ucraina ha devastato la vita di milioni di persone a cui va il nostro sostegno e la nostra profonda solidarietà. Ma le conseguenze di questa guerra si fanno sentire anche in Europa, in particolare per settori come trasporti e turismo già assegnati in modo significativo da due anni di pandemia. Ci approcciamo alla stagione estiva con un aumento indiscriminato dei prezzi dei carburanti, il caro energia e l'inflazione che riducono la disponibilità economica dei cittadini europei. Anche quest'anno viaggiare e andare in vacanza sarà difficile per molte famiglie. Per questo sarà importante adottare gli strumenti che questa risoluzione mette in evidenza, a partire dal meccanismo europeo di gestione delle crisi e dal sostegno finanziario a breve termine. L'Eureopa deve esserci per i suoi cittadini, per le micro e piccole imprese che popolano il comparto turistico e per quei territori che per vicinanza al teatro di guerra o per la storica prevalenza di turisti russi e ucraini saranno maggiormente penalizzati. Grazie.